I primi 100 giorni di sindacatura 5 Stelle a Gela sotto i riflettori di Agorà. Ieri sera la nostra trasmissione di approfondimento settimanale ha ospitato il primo cittadino pentastellato Domenico Messinese e con lui tre direttori di testate giornalistiche locali che hanno sviscerato tutti i punti salienti dell'operato della Giunta Grillina in questa prima fase di esperienza amministrativa alla guida della città del Golfo. A porre domande al sindaco messinese sono stati oltre al conduttore di Agorà anche il direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro e quindi il direttore del quotidiano di Gela.it nonché corrispondente del giornale di Sicilia Luca Maganucco ed il direttore del Tg10 Giuseppe Donchia. Ne è venuto fuori lo spaccato reale di quello che è stato in questi primi 100 giorni il bilancio con pregi e difetti del governo cittadino a 5 stelle con qualche stella che obiettivamente brilla di meno e soprattutto con altre che hanno letteralmente spento la luce a questa amministrazione come alcuni consiglieri comunali eletti nella lista del movimento di Beppe Grillo che nei fatti si stanno rivelando i primi e di più accaniti oppositori di questo sindaco o meglio del loro sindaco che a scanso di equivoci è stato scelto da loro dalla base e a furor di popolo hanno fatto eleggere salvo poi criticarlo ad ogni piesso spinto anche dagli scranni del consiglio comunale. Roba da fare venire l'invidia al migliore o peggiore se volete PD dannata. Eni, Caltacqua, Tecra, Agroverde, liti interne, stipendi non dimezzati. Insomma si è parlato se non proprio di tutto ma almeno di molti dei temi che sono attualmente sul tappeto della stanza del sindaco. Non è mancata poi la solita nota che rappresenta il vero valore aggiunto di Agorà, ossia la scheda fuori dal coro curata magistralmente da Giulio Cordaro. Chi volesse rivedere quest'altra interessante puntata di Agorà potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it o il profilo facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata su Canale 10 con nuovi ospiti e nuovi argomenti che come sempre riguardano Gela e Digelesi.